Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che sono migliorativi del testo. Io credo che ci sia stata una grande sottovalutazione da parte del Partito Democratico e del Governo di emendamenti presentati dalle opposizioni che avevano un intento puramente migliorativo del testo. Quindi io credo che la maggioranza, il Partito Democratico e il Governo debbano fare una seria riflessione su come sta portando avanti questo provvedimento. Grazie. 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 Grazie.